Buongiorno a tutti, Lorenzo Breschi dall'Università di Bologna. Sono qui a Riva del Garda in qualità di relatore ma in qualità anche di futuro presidente dell'Accademia e con questo messaggio vorrei invitare tutte le persone che non sono state qua a essere presenti nei prossimi anni. È stato un congresso, è ed è stato un congresso bellissimo. Abbiamo parlato di preparazioni minimamente invasive, abbiamo discusso di adesione, abbiamo discusso di come migliorare la salute dei nostri pazienti utilizzando tecniche esclusivamente additive senza quasi toccare i tessuti dentali e agendo veramente in grande rispetto di una filosofia minimamente invasiva. È un momento unico di incontro, di confronto, di amicizia con tantissime persone che sono qua, con tanti maestri, tanti giovani, tanti studenti e soprattutto quello che ci accomuna è questa grande passione per la conservativa. La conservativa oggi in seguito un po' alla crisi economica ma anche ai nuovi materiali, alle nuove metodologie, alle tecniche adesive è veramente una branca completamente cambiata, è una branca totalmente nuova che offre grandissime opportunità e penso questa sia davvero l'accademia che può dare al professionista il know-how, la capacità, l'abilità di utilizzare al meglio questi nuovi materiali. Nuovi materiali che necessitano di grande attenzione, grande attenzione al dettaglio, allo step by step clinico e penso questo sia davvero il punto più bello e più alto nel rigore metodologico ma anche nell'amicizia, nel stare assieme, nel divertirsi e nel fare gruppo. Forza IC e per chi non è stato con noi vi aspettiamo il prossimo anno. Grazie a tutti.